Chiupano, motociclista di 52 anni residente a Carrè, è rimasto ferito gravemente ad una gamba a seguito di un incidente con un autocarro. È accaduto ieri sera poco prima delle 22 in via Alberi. Il Centauro, in sella alla sua Yamaha, viaggiava in direzione sud ed è finito per impattare contro un autocarro Iveco che viaggiava nella stessa direzione, condotto da un trentenne di Chiupano che è rimasto in colume. I biker, invece, soccorso dai medici che lo hanno immediatamente stabilizzato, ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale nord-est Vicentino che sono intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico.